Perché Lug è LUUUUUUUUNK 43 centici Eh 1 2 Preso il mid Raga 1 mid Qualcuno ha trovato 2 mid Preso short, un altro mid Eh ho la banana non è facile Ma lo sai che è OP quella No Preso Vai Luca è sul side Vai diffusa diffusa sono lontano io Nooo Riescio Guardo io qua fuori Attento mid Thomas Che culo questo no eh L'ha flashato mi ha fatto Raga la doppia dentro la smock La doppia dentro la smock Dai però Preso 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 andiamo Ok Nice Bs lo preso Oh Hai smockato te? Nice 1 ponte 2 ponte Bomba drop ponte 1 è sotto Sotto dove? 1 ponte 1 è sotto UUUUUU Ed show Ed show E' un altro? Un altro a sinistra sempre 2 2 Ponte 2 ponte 3 ponte Rush 1 ponte Preso 1 4 ponte Raga hanno preso 1 nella smock Nooo Mamma mia Mamma mia Nooo No ho un pino avanti 1 ponte 2 ponte 2 ponte E vabbè però cazzo di che fare eh Dov'è? Nooo Hai preso Nice Ah un arrasciato 2 HP lupo Verso il ponte scappa di qua Lululululu Tutti i tuoi dati Hanno 8 HP Arrivano ancora verso B Eh vabbè sono passato e ce li trovano Eh vabbè sono passato e ce li trovano Ah vabbè sono passato e ce li trovano Ecco Eh che cavoli Ah l'ho preso Io ho regguito Ah uno è sopraponte Pro Rush 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 Ah ce l'ho giù Ce l'ho giù Ok uno sta arrivando da ponte Ah l'ho ottenito 96 c'ha quanto ha capito Eccolo E' prima qua Si è FK È F Scarpa Voglio fare la mia coltellata prima Eh pa L'ho ciccato Eh pa Eh 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 Grazie a tutti